ahahah questi dovrebbero finire, penso ci vorranno pure gli altri però cerchiamo di diamo un po' meglio secondo te non mi rimane tutti sono così felice non so che sono così stai vabbè comunque sono spaghetti aspetta andiamo spaggia per tutto spesso come se sei? guarda per questo nooo grazie 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 sono 12 sono 12 non lo so